Si chiama Daniela Lackard, è una bellissima modella extra-large, ossia di video-pv, ed è molto seguita nei social network, più di 300.000 follower su TikTok, su Instagram sono 100.000 o poco più. E la donna in questione è stata letteralmente bullizzata per vedere il suo corpo e le foto in bikini che mostra in maniera orgogliosa. Ma la donna in questione non ha nulla da nascondere, non ha paura di esporsi e dice pubblicamente, io non ho nulla di sbagliato. Essere grazi, infatti, non è assolutamente una colpa, non sono una colpevole di vista qual colpa. Eppure è molto seguito nei social, non le vanno a dire, va orgogliosa del suo corpo, non ha paura di esporsi e di farsi notare. E a chi la critica e dice, io sono così, mi accetto di andare avanti, insomma, un messaggio di positività, di boccia di positività, come giustamente deve arrivare. E spera che arrivi. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, teneremo un esempio per tutti.